Professoressa Fornero, se sei d'accordo, potremmo cominciare a ragionare insieme proprio sul quadro di contesto. Le riforme strutturali che il PNR prevede riguardano quattro temi, la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione dell'iter legislativo e la promozione della concorrenza. Però io le chiedo, come chiedo agli altri suoi ex colleghi, ma in questi anni ogni governo ha marcato riforme su questi temi. Però oggi parliamo ancora di riscrivere regole che servano a far funzionare, non a dati, non quelle di cui ci parlava Roberto Camera, puntuali correzioni, ma che facciano funzionare, girare la macchina paese. C'è qualcosa che non ha funzionato, secondo lei? C'è una forza di restaurazione che frena ogni passaggio di modernizzazione del paese? O forse chi ha scritto le riforme le ha pensate più di parte che super partes? O da ultimo, dobbiamo invece ragionare su un altro ordine di idee. La riforma non è un atantum, ma è un processo, è un percorso dinamico e quindi non è un elemento statico, non è la costituzione del paese che si scrive una volta e la celebriamo ogni anno. Professoressa, a lei. Grazie, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Mi fa piacere essere qui oggi e discutere di questi temi così importanti, ma fatemi anche dire così complessi. Io ho molto apprezzato la relazione del dottor Camera, ma vorrei sottolineare una cosa. Forse in quella relazione che mostrava una grande aspirazione alla semplicità, alla linearità delle regole, in quella relazione manca l'elemento di complessità. Perché la regola buona in assoluto, a parte forse quelle che sono nella Costituzione, non esiste. La regola è buona o meno buona a seconda che produca i suoi effetti dichiarati e quando gli effetti sono, diciamo così, a favore della collettività o a favore dei più deboli nella collettività, se la norma produce i suoi effetti è efficace. Ma neppure la norma scritta, diciamo, in modo eccellente necessariamente produce questi risultati. Io mi sono molto occupata di questo tema perché, allora, parliamo di lavoro, della complessità del lavoro, della complessità delle relazioni del lavoro. Io, diciamo, andiamo sul pratico. Voglio raccontarvi come io ho, a suo tempo, quando ero ministro, diciamo come mi sono accostata al tema della riforma del mercato del lavoro. Sono entrata a far parte di un governo in condizione di emergenza. Chiunque neghi quelle condizioni di emergenza finanziaria mente sapendo di mentire. Quindi su questo non ci piove. Si fa la riforma delle pensioni, approvata dal Parlamento a larga maggioranza. Subito dopo il presidente Monti dice bisogna fare la riforma del mercato del lavoro. Bene, io mi sono messa già nelle vacanze di Natale, e il nostro governo ha cominciato il 16 novembre, cercare di interloquire con chi l'ho fatto con le rappresentanze sindacali. Era nelle vacanze di Natale. Devo dire che l'unica che ho trovato disponibile, perché gli altri erano in vacanza, è stata Susanna Camusso. Abbiamo organizzato un incontro a Torino. Devo dire, al di là poi di tutte le diversità di visione, che lei e io da sole abbiamo lavorato una mattinata, tre ore, per cercare di sviscerare i problemi. Bene, questo è stato il primo incontro, ne faccio altri. Arriviamo subito dopo. Le famose, i miei colleghi, ricorderanno tutti le riunioni in Sala Verde, per me erano una novità, con tutti i rappresentanti sindacali, le prime file, le seconde file, le terze file, ciascuno con un suo compitino. Ebbene, arriviamo, io arrivo con un documento. Un documento che secondo me era un documento di analisi dei problemi del nostro mondo del lavoro. Analisi vuol dire, per l'appunto, partiamo dai fatti, partiamo dalle criticità, vediamo se li condividiamo e da lì andiamo verso una riforma come processo. Aggiungo che la riforma doveva essere, e questo lo chiese espressamente, il presidente napolitano, doveva essere fatta per disegno di legge. Avevamo fatto il decreto Salva Italia come decreto, conteneva la riforma delle pensioni, non si poteva fare un altro decreto per la riforma del lavoro. Ricordo, per quelli che magari non lo ricordano, che entrambe queste riforme erano richieste nella famosa lettera sottoscritta da Jean-Claude Trichet e da Mario Draghi come vicepresidente della BCE il 5 agosto 2011 come impegno al governo italiano per la banca stessa acquistare dei titoli del debito. Quindi si era fatta una riforma per decreto, importante, anche in popolare, e l'altra doveva essere fatta e condivisa col Parlamento. Questo era. Cominciamo il percorso partendo dall'analisi, perché i problemi che i datori di lavoro sottolineano, che lamentano, non sono gli stessi che lamenta il sindacato. Prima ho sentito parlare delle dimissioni online. Tutto questo si rifà al famoso problema delle dimissioni in bianco. Quando io sono arrivata al Ministero, giornali, andare a caccia di persone che avevano subito questa violazione da parte dei datori di lavoro di sottoscrivere una lettera in bianco da tirar fuori il momento opportuno. Quindi il pubblico, compresi tutti i media, non è che ti dicono aspetta, studia, guarda, dedica molta attenzione. No, ti sbattono il problema in faccia e ti chiedono una soluzione, tipo decreto, il giorno dopo. Ma così non è. Questo è il punto. Quindi facciamo un'analisi e devo dire che la mia prima reazione stupefatta fu a una dichiarazione quando io dissi va bene, possiamo partire da questi problemi. Lo dico perché è successo, è storia. Angeletti alla mia relazione disse, ministro, se cominciamo in questo modo andiamo a finire in un burrone. E io dissi, chissà tra me e me, chissà perché andiamo a finire in un burrone. Dopodiché allora cercai di riassumere tutto quello che noi, come voi direte, come studiosi, ma non come studiosi di parte, come studiosi interessati al funzionamento del mercato del lavoro, avevamo cercato di mettere nella relazione che doveva servire da premessa per le regole nuove. Aggiungo un'altra cosa che sta sempre in questo processo di cambiamento delle regole. Noi nel nostro paese abbiamo una scarsissima, anzi diciamolo apertamente in italiano, la classe politica ha una scarsissima disponibilità a considerare che le cose fatte da un governo precedente abbiano un qualche valore. Secondo il governo in carica, quello che è stato fatto prima è sempre da buttare. Guardate che questo introduce un problema serissimo che è il problema esattamente non del recepimento delle norme da parte più o meno di tutti, monitoraggio delle stesse norme per vedere se funzionano, attenzione ai punti di criticità con la disponibilità a cambiare, come deve essere fatto in un percorso di riforma. E invece no, bisogna dire quello che è stato fatto è sbagliato, adesso arriviamo noi che mettiamo a posto tutto. quindi questa indisponibilità a riconoscere è, io dico proprio, tipica della nostra classe politica, non è la sola ma è tipica. Bene, noi invece quell'analisi l'avevamo fatta in modo il più possibile neutrale. Da lì nasceva una consapevolezza di quanto difficile sia regolare il mercato del lavoro e un'altra consapevolezza che è la difficoltà nel mercato con le regole a fare in modo che ci sia più occupazione che è poi quello che tutti vorremmo perché noi vorremmo un lavoro dignitoso, relazioni di lavoro diciamo oneste ma equilibrate e vorremmo soprattutto che ci fosse più lavoro per tutti e più lavoro in particolare per coloro che sono stati tradizionalmente gli esclusi dal mercato del lavoro cioè le donne, i giovani e anche i lavoratori anziani per i quali quando sono poco più di 50 anni si dice ti troviamo una possibilità di pensionamento anticipato e così ti togli. Ecco, questo è l'approccio sbagliato. Allora una riforma, lei mi ha chiesto, una riforma è inevitabilmente un processo, richiede apertura, richiede anche conoscenza perché non puoi fare una riforma se non sai niente del problema e se non hai accanto chi ti aiuta veramente e in maniera disinteressata non di parte e richiede la consapevolezza che una riforma non nasce perfetta per tutti quelli che strillano alle riforme che il giorno dopo dovrebbero produrre gli effetti sperati, le riforme non nascono mai perfette ma allora bisogna avere la disponibilità a osservarne l'applicazione a fare i decreti che mancano sui quali spesso è la burocrazia che ti fa mancare le firme e poi vedere che qualcosa funziona e lo rafforzi e qualcos'altro non funziona e non lo rafforzi magari lo correggi. Questo è lo spirito riformista, questo è quello che deve entrare nel PNRR perché solo scrivere la necessità di riforme sono capaci tutti ma l'attuazione delle riforme è estremamente difficile noi oggi dobbiamo riuscirci altrimenti il paese perderà l'ennesima importantissima occasione e saremo tutti più poveri e già siamo oggi più poveri più poveri di quanto non fossimo qualche tempo fa. Se voi foste e forse già lo fate foste nella condizione di consigliare l'attuale ministro che sta gestendo quello che era stato il vostro ruolo in passato il ministro Orlando quali priorità da cosa cominciare tanti gli argomenti dal blocco dei licenziamenti gli ammortizzatori sociali quota 100 che va a finire le semplificazioni la rappresentatività sindacale ecco quale consiglio con la vostra esperienza prioritario vi sentireste di dare professoressa Fornero consiglierei a lui di agire nell'ottica dei sei anni del piano e di rifugire dall'idea dall'illusione che si possa in fretta fare qualcosa che poi resista alla prova del tempo e del cambiamento inevitabile che ci sarà perché il piano ci dà per la prima volta dopo tanti anni perché sì si facevano dei programmi pluriennali ma poi erano sempre superati dalle leggi di bilancio annuali che alla fine consentivano sempre una sorta di come dire qualcuno l'ha chiamato assalto alla diligenza da parte del Parlamento spesso accordi sotto banco per cui l'aggiustamento di una questione su una parte trovava compensazione nell'aggiustamento di un'altra questione dalla parte opposta per cui tutti erano contenti salvo i contribuenti in particolare quelli futuri perché si finiva con aumentare il debito pubblico io ritengo che ciò che ha portato all'aumento del debito pubblico pre-pandemia quindi in situazioni che potevano essere considerate normali anche se poi abbiamo avuto la crisi del 2008 2012 la grande recessione che non era una situazione normale ma quello che ha portato al grande debito pubblico è stato l'atteggiamento di pensare che c'è sempre una buona occasione per spendere soldi nel breve termine dimenticandoci di pensare al futuro questo è e allora io lo direi anche al ministro Orlando non pensare a una riforma degli ammortizzatori sociali che fai nei due mesi prossimi pensando alle devastazioni del covid ci sono devastazioni le devastazioni del covid le abbiamo affrontate con le misure di emergenza e quello che serve adesso di più è creare il lavoro sono tutte quelle cose che a partire proprio dalla iniziale applicazione del PNRR perché oggi Ursula von der Leyen lasciatemi dire tra l'altro ma Tiziano Treo lo sa bene che io ero ministro del lavoro quando anche Ursula von der Leyen era ministra del lavoro in Germania con lei tra l'altro presidente Sacconi lavorammo tantissimo su un programma concreto specifico che vedeva Germania e Italia impegnate in un progetto di apprendistato duale che fu poi abbandonato ma su cui la Germania metteva molte risorse relativamente perché proprio come mi disse Ursula von der Leyen il punto non è solo quello di chiedere misure di austerità alla quale lei personalmente non era neanche favorevole ma era di fare qualcosa per lo sviluppo la crescita per le giovani generazioni private delle opportunità e del lavoro quindi la logica dell'apprendistato che io è vero cambiai ma cambiai in una idea di continuità e l'ho detto diverse volte non c'era stravolgimento di ciò che era stato fatto prima c'era questo veniva richiesto dalle associazioni datoriali e dai sindacati cercare di modificare qualche cosa che non ha funzionato quindi io a Orlando direi evita di fare le cose come se dovessi risolvere i problemi domani mattina quelli ci saranno anche ma i cambiamenti le riforme si fanno per il medio periodo almeno e sei anni non sono un lungo termine sono un medio periodo la seconda cosa che gli direi è che io non ho potuto fare è quella che mi è mancata di più perché allora a noi tecnici diciamo che l'aiuto politico c'è stato nel momento in cui le cose richieste le cose considerate necessarie sono state approvate ma poi lanciato il sasso si è nascosta la mano e quindi quello che un ministro deve fare che è di parlare con le persone ma senza parlare sapendo di chiedere qualcosa un voto una simpatia no parlare con sincerità e per esempio spiegare che le riforme nell'immediato richiedono sempre qualche sacrificio io non credo alle riforme a costo zero qualcuno dice la riforma della pubblica amministrazione a costo zero non è vero perché c'è un sacco di funzionari della pubblica amministrazione che sentono in quella riforma il costo di dover cambiare atteggiamento di dover cambiare modalità di lavoro e quindi la ostacolano e quindi bisogna convincerli che se cambiano effettivamente i risultati arriveranno magari anche per loro ma comunque per la collettività quindi le riforme a costo zero non esistono e le riforme richiedono nel presente sempre qualche sacrificio nella speranza se sono applicate non ostacolate non rimaneggiate subito con l'intento di presentarsi ogni volta un ministro come il salvatore della patria ebbene se si va avanti lungo quel processo di riforma che prima abbiamo descritto magari i risultati arrivano quello che è mancato in noi è proprio questa condivisione per cui gli direi studia bene i problemi convinci le persone il sindacato per esempio da convincere che procrastinare il divieto di licenziamento è un tampone l'abbiamo fatto continuiamo a farlo per due mesi va bene ma non è così che si risolvono i problemi del lavoro i problemi del lavoro hanno bisogno di misure di medio termine che partono dal dialogo profondo fattivo tra scuola e mondo del lavoro dall'orientamento fatto ai ragazzi perché se non c'è orientamento i ragazzi scelgono sulla base di preferenze magari viste lette sui social su Instagram e poi si trovano a pagarne le conseguenze e poi a rilanciare l'apprendistato e poi a considerare che c'è formazione permanente e poi a fare investimenti di cui il PNRR è effettivamente molto denso e quindi di nuovo dobbiamo auspicare che l'autorevolezza di Draghi che lei prima ha richiamato sia sufficiente a rendere anche i più riottosi all'interno del governo e della maggioranza ad adottare una politica di lungo termine di medio termine almeno grazie grazie grazie